Ben trovati, ben trovate sul canale Experientarot. Oggi vediamo questo mazzo di tarocchi molto particolare per la sua fattura, diciamo perché a livello iconografico si tratta dei tarocchi Rider Waite. Questi sono i tarocchi Black e Gold Edition della Scarabeo in cui, come si vede anche già dalla scatola, il fondo è dorato e i disegni sono neri. C'è anche una versione, diciamo, invertita con il fondo nero e i disegni dorati. Comunque questa è la versione Black e Gold Edition, cioè fondo dorato e disegni neri. Come vedete la scatola è molto grande, molto bella, già di per sé si vede tutta tutta bella dorata. È una scatola molto molto lissuosa che si apre appunto così, diciamo, come se fosse uno scrigno. Anche l'interno, vedete, è dorato, molto curato, c'è la scritta. Poi c'è questo libricino, anche questo nero con la scritta dorata e poi all'interno l'edizione multilingue spiega un po' il significato dei tarocchi e questo, diciamo, di questo tarocco Black and Gold Edition. All'interno della scatola è di velluto, c'è questa piccola linguetta per tirare fuori i tarocchi che vediamo sono appunto dorati. Adesso andiamo a vederli un po' nel dettaglio. Allora, vediamo i nostri tarocchi, la dimensione è, diciamo, standard, si tengono bene in mano, il retro ha questa texture non dorata ma comunque molto molto bella, con colori caldi e poi andiamo a vedere appunto come sono fatti i nostri tarocchi. Allora, andiamo a vedere i nostri tarocchi, si vede subito già dalla carta di presentazione che dice appunto che sono i tarocchi Tarot Black Gold Edition dello Scarabèo, vedete che fanno questo bellissimo riflesso dorato. Poi c'è questa carta in cui dice le altre versioni dorate dell'edizione dello Scarabèo e poi arrivano i nostri tarocchi che, come accennavo, a livello iconografico altro non sono che i Rider-Waite-Smith. Qui sono appunto impreziositi in questa versione con il fondo dorato e le scritte nere. Come vedete, la doratura è molto bella, molto calda. Adesso sto cercando di farvi vedere appunto alcuni riflessi che vengono fuori dalla visione di queste carte completamente dorate con i disegni neri. Come accennavo all'inizio, esiste anche una versione che non ho invertita in cui, diciamo, i disegni sono dorati e lo sfondo è nero. Adesso lo sto scorrendo, qui vediamo la forza. Vediamo che questa doratura è molto bella, molto calda, molto d'effetto, molto scenografico come tipo di tarocco. Certo, magari a qualcuno può non piacere perché si perdono i colori e forse può, così questa doratura può sembrare troppo invasiva, invece io la trovo molto gradevole e molto bella. Sono delle carte molto, molto scenografiche, molto affascinanti, ma a mio modo di vedere possono essere usate anche per le letture, perché appunto hanno queste iconografie, diciamo, classiche del Rudder White Smith che è molto bella, molto riconoscibile. Vedete qui questo giudizio, veramente molto bella. Anche la stella con queste dorature molto, molto piene, molto calde. Qui abbiamo il mondo e poi abbiamo qui due carte che sono leggermente diverse, secondo me, come stile, nel senso che predomina in queste due carte, nella Torre e nel Diavolo, predomina un pochino questo nero di sfondo rispetto al resto della carta. Sarei curioso di vedere quando le prenderò le altre versioni, quelle col fondo nero e i disegni dorati, ma in questo caso, diciamo, sono così. Sono molto belle, ma forse secondo me escono un pochino dallo stile delle altre carte. Vediamo poi rapidamente gli arcani minori. Vedete che c'è questa doratura che, appunto, invade completamente la carta e che ce le fa vedere con dei riflessi molto belli. Diciamo che a livello di doratura, qui si può vedere, per esempio, in questo 5 di spade c'è questa doratura piena e poi questa doratura leggermente damascata. Quindi ci sono due diversi tipi di doratura. Vedete anche qui, per esempio, nell'acqua e nei disegni una doratura piena e sopra, invece, c'è questa doratura un po', chiamiamola così, damascata. E questo anche negli arcani maggiori che abbiamo visto prima. Adesso vedete, le sto scorrendo. Bellissimo questo effetto dorato con questi riflessi e vedete qui il 9 e il 10 di spade. Anche qui c'è una predominante nera e sebbene, appunto, ovviamente abbiamo questo oro che esce molto molto prepotente. Alcune carte, come questo 10 di bastoni, secondo me, sono veramente molto molto affascinanti. Le scorro rapidamente perché, ripeto, a livello di iconografia, altro non sono che, come abbiamo detto, i tarocchi Rider-Waite-Smith che conosciamo quindi a livello simbolico sono esattamente la riproduzione di questo classico mazzo di tarocchi. Grazie a tutti. 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 Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.